Cavalieri e dame, bentornati su Medievofastoria. Finalmente dispongo anch'io di un microfono che non vi faccia sanguinare le orecchie dopo 5 minuti. Ok, scusatemi, sono un po' troppo felice. Dopo un paio di episodi in single player, io e Antonio torniamo a fare coppia in questa puntata alquanto semplice, che piacerà sicuramente a molti e che potrebbe attirare anche non appassionati, giusto per staccare da guerre, invasioni, smembramenti, eccetera. Come sempre io sono Giovanni e questo è l'episodio 5, l'uomo comune, vita e dieta. Si si sveglia prima dell'alba, si dà da mangiare alle bestie, si esce nel campo, si rincasa al tramonto, se sei fortunato hai un pasto decente e si va a dormire. In classico, di come si immagina la giornata tipo del paesano medievale. Avete mai pensato che la maggior parte delle cose che si pensano nel Medioevo sono frutto di allegorie e romanzi fantasy? Bene, siamo convinti che molti di voi continuano a sfottare il Medioevo per la sua vita triste e monotona. Quindi ci siamo messi all'opera per darvi una visione un po' più ampia rispetto alle due pagine che i libri delle medie vi dedicano. Detto questo, mettiamo come al solito un paio di paletti. Nelle nostre ricerche abbiamo cercato un periodo che possa andare bene, diciamo, a tutti, ok? Ci muoveremo infatti tra l'anno 1000, un po' prima, un po' dopo, che nell'immagino collettivo segna il passaggio tra il basso e l'alto Medioevo, tra oscurità e prosperità. Inoltre, non ci limiteremo a darvi un'idea di come viveva il contadino di notte un'Europa, ma bensì, nel corso di qualche episodio, ci muoveremo circa a 360 gradi. Ci sposteremo infatti verso la Scandinavia, l'Asia, il Medio Oriente e persino l'Africa, spesso sottovalutata. Vi vogliamo infatti mostrare quanto un aspetto così semplice come la vita media di un popolano possa essere diverso, per quanto possibile, in giro per il mondo. Beninteso, non vi racconteremo cosa faceva Tizio dal mattino fino all'ora di coricarsi, ma ci impegneremo a raccontarvi, senza far politica, di come viveva sulla sua pelle un popolano in questo periodo di cambiamento. Cominciamo dall'Europa, che ci viene facile. Tra le varie fonti è interessante vedere come alcune persone continuino a far leva sul fatto che l'igiene era scarsa, le malattie di ogni tipo, che siano mentali, fisiche, eccetera, fossero all'ordine del giorno e che la paura fosse lo stato d'animo costante di qualsiasi persona. Vi dirò, non è affatto sbagliato dire questo, ma così facendo una persona che si vuole informare conferma solo le proprie idee retrogradi sul passato. Se andiamo ad informarci meglio, infatti scopriremo un mondo che non ci saremmo mai aspettati. Sappiamo che poco prima dell'anno 1000 si viene a verificare il cosiddetto fenomeno dell'incastellamento, dove i signorati locali andavano a costruirsi un loro maniero, sfuggendo sempre di più all'autorità imperiale o reale. Ma al normale contadino, che viveva nei suoi 20 metri quadrati di casa, se si può definire così, con le sue bestie accanto, letteralmente, a lui questo cosa importava? Ebbene, anche per questo ceto sociale le cose cambiano. I signori locali offrivano la protezione all'interno del loro castello, in caso di pericolo. Poi, essendo pur sempre proprietari della terra coltivabile, ne riscuotono frequentemente le tasse per il loro utilizzo, che appunto veniva dato alle famiglie del popolo. Non è un caso se proprio negli anni intorno al X secolo la popolazione europea comincia a crescere. Di contro abbiamo un arresto solo con l'arrivo della peste, ma nel XIV secolo. Viene infatti un crescente benessere per le classi sociali più basse, che si sapevano autogestire quasi in tutto. Sappiamo, per esempio, che i signori non avevano un grande interesse per la loro terra. Infatti, come vi abbiamo detto, si limitavano a riscuotere una parte dei frutti e le tasse. Le famiglie di contadini lavoravano spesso insieme. Diversamente da quello che si pensa, infatti, questi non si mettevano con la zappa alla mano giorno e notte a sorvegliare i loro campi per proteggerli dalle invasioni da parte del vicinato. Ma bensì ogni zolla era delimitata, magari con dei ceppi confinanti che si possono vedere ancora oggi. In un possibile periodo di magra si cercava di aiutare anche il prossimo. Tra parentesi, ricordatevi che non erano più gentili di noi, erano semplicemente dei buoni cristiani. Bisogna sottolineare il fatto che proprio in questi anni vengono introdotte delle vere e proprie rivoluzioni in campo agricolo. Due prima di tutto. Viene creata la rotazione triennale, che consente alla terra di rigenerarsi e respirare, quindi renderà di più, e l'aratro pesante, un enorme passo avanti. Se considerate che la maggior parte dei contadini al tempo possedeva attrezzi in legno, i quali si usuravano facilmente. Diciamo, provate voi a zappare la terra con una zappa appunto in legno. Mentre ora cominciano appunto a diffondersi quelli in ferro battuto. Con tutto questo benessere, sì lo so, per noi il benessere è ben altro, ma bisogna pensare con una mente del tempo. Questi piccoli villaggi cominciano a trasformarsi in borghi e poi in città, che grazie alle derrate alimentari provenienti dalla campagna circostante e al danaro assonante delle botteghe, cresceranno a dismisura. Ma questo ve lo racconteremo in qualche altro episodio, non preoccupatevi. Un aspetto alquanto interessante secondo noi è anche la dieta. Molti storici ne hanno discusso, abbiamo infatti ascoltato o letto delle lezioni del professor Barbero e del professor Montanari, nel quale si apprende che si conoscono molte cose di questo aspetto rilevante della vita comune, anche se non quante se ne vorrebbero sapere. Se sperate di farvi dettare delle ricette, beh, non siete nel posto giusto, ma su internet tranquilli, ne troverete con poca fatica a dozzine. Parlando prettamente di alimenti, sappiamo per certo che in quel periodo la povera gente si nutriva principalmente con i prodotti che riusciva a procurarsi senza un acquisto sostanzialmente. Ognuno infatti disponeva del suo minuscolo orto, che produceva lattuga, rape, cipolle, zucche, cavoli. Il pomodoro non esisteva in Europa, vi prego ditemi che questo lo sapevate già. Vi erano poi le terre date in concessione dal signore del paese, le quali venivano utilizzate per produrre cereali, il pane considerate era la parte fondamentale dell'alimentazione e lo rimarrà per moltissimo tempo, o per pascolare gli animali a disposizione, o meglio dire i pochi animali a disposizione. Solo nel prossimo futuro si comincerà ad assumere formaggio, poiché il latte, pensate, veniva considerato un alimento per bambini e barbari. LOL La carne non è praticamente da menzionare, poiché chi pensate che avesse i soldi per mangiarla? Ovviamente i più ricchi. Mentre il pesce era abbastanza presente nella dieta di chiunque, poiché lo si trovava nei fiumi, molto di più che adesso, e nel mare. Una cosa da notare è che in Europa l'influenza della chiesa aveva una parte importante, diciamo, anche sulla alimentazione. Sappiamo infatti che il divieto di mangiare carne e altri prodotti di origine animale valeva per circa un terzo dell'anno, se contiamo che la quaresima aveva il suo bel periodo e vi erano molti più digiuni al tempo. Non mi indilungo troppo, tranquilli. Altrimenti qui diventa una lezione di scienze degli alimenti. Mmm, mmm. Come ultimo appunto ci tengo a sottolineare quali erano le abitudini igieniche del tempo in Europa. Sicuramente non erano quelle che siamo abituati a vedere nei film sul Medioevo, con il classico filtro fango-cenere-sangue. Non so se mi spiego. Ebbene, credetemi se vi dico che durante il Rinascimento e durante l'Illuminismo era fortemente sconsigliato l'utilizzo di acqua per la propria igiene personale. Se non mi credete, andatevi a vedere la famosa storiella su Luigi XIV al riguardo. Si vede nel Medioevo, infatti, la comparsa del sapone in Europa, che proveniva dall'Asia. Ognuno si lavava come poteva mani e viso prima di mangiare, ad esempio, anche se il bagno completo era il quanto sporadico. Nei luoghi dove era possibile si cercava di ridar vita agli antichi bagni romani, i quali erano entrati in disuso dopo la caduta del glorioso impero, anche grazie alla chiesa che li considerava alla pari dei bordelli. Di contro, però, non esistevano più le reti fognarie e i liquami e qualsiasi altra schifezza girava per le strade, prive spesso di un canale di scolo. Se guardiamo invece i piccoli privilegi della chiesa, possiamo notare come in alcune regole monastiche vi sia l'obbligo di lavarsi ogni giorno o alla fontana comune o addirittura in stanze apposite. Ora tocca ad Antonio, che vi andrà a parlare dello stesso argomento, ma ci spostiamo verso lande congelate e fiordi norvegesi. Partendo dal presupposto che abbiamo dedicato un episodio intero a questo interessante popolo di lupi di mare, non mi soffermerò in particolare modo. Tranquilli, i razziatori delle barbe bionde non intendono oscurare il resto, perché comunque tratteremo anche altri popoli. Ma torniamo ai nostri geli di fiordi, le insenature che hanno partorito leggende e miti. Come già citato in un episodio precedente, i vichinghi svolgevano diverse professioni. Spesso un uomo era pure un tuttofare, insomma faceva il contadino, e se viveva vicino ad un corso d'acqua pure il pescatore. Al contrario, si viveva nell'entroterra.